Il Pescara, gioco interrotto, tempestivo intervento dei sanitari che erano presenti allo stadio, che gli hanno praticato un massaggio cardiaco. Il giocatore è stato portato in ospedale con un minuto del primo tempo contro il Pescara. Gioco interrotto, tempestivo intervento dei sanitari che erano presenti allo stadio, che gli hanno praticato un massaggio cardiaco. Il giocatore è stato portato in ospedale con un'ambulanza, a quanto pare si viene a sapere che era già in arresto cardiaco. Questi sono i momenti, lo vedete in basso nel vostro teleschermo del giocatore che si è accasciato al suolo. I compagni, i lacrime, come potete immaginare, sono rientrati negli spogliatoi. Il tifoso si è sentito male in curva. Durante il trasporto, dicevamo, verso l'ospedale, Murosini era in arresto cardiaco. Questi drammatici momenti subito successivi a questo malore avvenuto in campo e lo ripetiamo durante la partita Pescara-Livor.